Revisori legali a sostegno dello sviluppo del mezzogiorno. Se ne è discusso ieri a Bari in un pubblico convegno organizzato dall'Istituto Nazionale Revisori Legali con relatori d'eccezione. Al centro della riflessione il ruolo a cui sono chiamati oggi i revisori legali a seguito della nuova normativa entrata in vigore il 1 gennaio scorso. Il rilancio economico del meridione passa anche dal ruolo dei revisori legali. Grazie alla nuova legge sulla revisione legale entrata in vigore il 1 gennaio scorso, i revisori legali infatti possono contribuire attraverso un rigoroso e neutrale monitoraggio contabile sia dei conti negli enti pubblici che nei bilanci delle imprese private e solo attraverso un rendiconto ispirato ai principi di terzietà, legalità, trasparenza e competenza è possibile assicurare all'economia dei territori meridionali un tempestivo ripristino delle ottimali condizioni di rilancio. Un'opera di risanamento contabile che interessa sia l'ambito pubblico con il controllo che il legislatore ha voluto rafforzare negli enti locali con incarichi a estrazione dei professionisti iscritti al registro sia il tessuto imprenditoriale garantendo alle imprese una corretta gestione delle risorse. Revisori legali, tutori e sostenitori del rilancio socio-economico e dello sviluppo del mezzogiorno è stato il tema centrale del seminario nazionale di studi che si è tenuto all'Università Aldo Moro di Bari promosso dall'Istituto Nazionale Revisori Legali in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari e la LAPET, l'Associazione Nazionale dei Tributaristi. I revisori legali a decorrere dal primo gennaio di quest'anno hanno la terza età, sono in effetti coloro che fanno controlli e verifiche sia agli enti pubblici sia alle ente private affinché la normativa venga applicata integralmente in modo tale che il revisore dal primo gennaio, ove non compisse questo passaggio che è storico per la realtà italiana e che l'Istituto è riuscito a far approvare al governo italiano contro tutte le attese di chi non voleva perché voleva difendere dei privilegi porta il revisore legale che risponde con il proprio patrimonio personale e se compie atti negativi per le realtà pubbliche, province, comune o d'altro ha la reclusione fino a sei anni. Nessuna professione quindi è così garante per quanto riguarda la lealtà e la realtà professionale su da farsi. A questo si aggiunge anche l'estrazione con il sorteggio? E' un passaggio delicatissimo quello che lei tocca perché vogliono portare avanti sempre gli stessi revisori creando contro la norma di legge l'amico dell'amico che rimane amico dell'amico per cui la chiarezza, la trasparenza, la vigilanza reale non c'è perché partono ancora nella fase iniziale in una copertura di interessi soggettivi. Il revisore legale punta solo ad interessi oggettivi che è quello generale che fissa la legge dello Stato delle norme italiane e europee. Obbligo della formazione però Presidente? Sì, dal primo gennaio di quest'anno i revisori legali hanno un obbligo della formazione con 20 crediti formativi ove non fossero naturalmente compiuti i 20 crediti formativi viene o sanzionato con 2.500 euro o, peggio ancora, cancellato dal registro ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo è un invito che rivolgiamo a tanti revisori legali che non sanno e sono in Italia e quindi tantissimi anche nel sud Italia, sono circa 55.000 che non sono iscritti al sistema ordinistico e che quindi magari non sono al corrente di questo passaggio e quindi verrebbero cancellati e sanzionati. Grazie. Grazie. Grazie.